In compagnia di Michele Marino per quanto riguarda il lavoro che la Sarim sta svolgendo nel comune di Castellabatte con questa nuova raccolta differenziata che è partita il 24 di febbraio e con lui a distanza di un mese già siamo in grado di fare un bilancio naturalmente iniziale di quello che è il comportamento dei cittadini di Castellabatte nel fare la raccolta differenziata. Allora dottor Marino, come sono i dati? Siamo sicuramente in presenza di un risultato soddisfacente, anzi direi anche qualcosa di più soddisfacente perché i cittadini di Castellabatte hanno risposto in maniera egregia, siamo felici e contenti del grande senso di responsabilità degli abitanti, delle attività commerciali che sono state tutte quante ben coinvolte in questa nostra azione che abbiamo fatto in questa fase della campagna di sensibilizzazione grazie soprattutto poi anche all'impegno diretto dell'amministrazione comunale che con la presenza costante del sindaco e soprattutto dell'assessore di Luccia praticamente fanno un lavoro quotidiano sia di stimolo a noi come impresa sia ai cittadini stessi perché hanno trasmesso questa loro voglia di dare un valore a questo servizio di raccolta differenziata e quindi ottenete risultati che poi vi possono essere un fiore all'occhiello per tutto il paese. Noi quando siamo arrivati qui nello scorso mese di agosto abbiamo trovato una situazione abbastanza difficoltosa dovuta a una serie di problematiche legate sia agli smaltimenti che alle problematiche dei dipendenti purtroppo che avevano dei problemi con la precedente gestione. Avevamo un valore di raccolta differenziata che era intorno al 50% quindi valori sicuramente bassi rispetto a quello che è la limite della legge che impone il 65% che per altri è un obiettivo per noi, è un punto di partenza perché laddove operiamo abbiamo valori sicuramente sempre maggiori. Abbiamo da subito iniziato a lavorare, abbiamo da questo 50% l'abbiamo portato e per la fine del 2018 siamo arrivati al valore del 57-58% quindi abbiamo subito dato uno step, una certa impronta, 61-62% all'inizio dell'anno poi abbiamo ad oggi, stiamo valutando i primi dati del nuovo servizio di raccolta e vi posso dire con grande soddisfazione siamo a valori superiori al 78%. Qualcosa che ci rende felici e pieni di orgoglio noi e chiaramente i cittadini stessi di Castellabate. Risultati assolutamente positivi, c'è però qualche piccolo messaggio che vuole dare a qualche cittadino magari per migliorare ancora di più? Sicuramente sì, gli aspetti sono due, vorrei focalizzarmi su due aspetti fondamentali. Prima è che praticamente la raccolta differenziale è qualcosa che non deve essere fine a se stessa e puntualizzata in quel determinato momento, ma deve avere un non suo percorso nel corso dell'anno e degli anni. Nel senso che oggi abbiamo questo entusiasmo che stiamo iniziando un percorso nuovo ma vi posso assicurare la cosa più importante è quella di tenere uno standard di qualità sempre elevato per tutto il periodo dell'anno. E poi è una esortazione soprattutto al cittadino di Castellabate che deve essere vigile del proprio territorio perché adesso andremo incontro ad un momento che è particolare inizieremo con la stagione del periodo pasquale quindi il mese di aprile sarà il primo banco di prova e poi avremo l'estate che sappiamo benissimo essere un qualche cosa di particolare dove avremo una popolazione fluttuante che è molto significativa, consistente abbiamo una serie di presenze che sono quelle turistiche delle quali io non temo molto il sorgere di qualche problema perché andranno anche loro inquadrati noi daremo i messaggi che dobbiamo dare quindi faremo la campagna informativa anche nel periodo estivo per coloro che verranno a villeggiare a Castellabate io però vorrei che l'attenzione la andremo a porre sui fluttuanti del fine settimana cioè il famoso mordi e fuggi che spesso e volenti è fatto anche dal cittadino e quindi dobbiamo essere noi, soprattutto i cittadini di Castellabate e noi tutti chiaramente che lavoriamo in questo settore ad essere i primi vigili su questa cosa perché dobbiamo far sì che non vada depavorato il nostro lavoro il lavoro e l'orgoglio del cittadino di Castellabate Assessore Domenico Di Lucci, Assessore all'ambiente dai dati che ha appena riferito il dottor Marino della Sarim sembra che dopo un mese di raccolta differenziata della nuova raccolta differenziata a Castellabate i dati sono molto positivi quindi è piena la sua soddisfazione Certamente, voglio prima di entrare nel vivo di questa discussione a cui io tengo veramente tantissimo voglio rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti i cittadini del comune di Castellabate e non anche i numerosi vacanzieri che affollano già in queste settimane il nostro territorio per la sensibilità mostrata verso questo tema ambientale di tutela, di rispetto del nostro territorio è un risultato ambizioso, dicevo quando abbiamo avviato la campagna di sensibilizzazione il 24 febbraio allora quando abbiamo promosso con tutte le tv, le testate giornalistiche questo avvio di questo sistema rivoluzionario che non riguarda semplicemente l'organizzazione nuova della raccolta differenziata sul territorio del comune di Castellabate ma va oltre stiamo entrando nelle scuole stiamo entrando in tutti gli uffici pubblici stiamo coinvolgendo tutte le attività imprenditoriali del territorio ieri sera, 21 marzo l'inizio della primavera abbiamo avuto una partecipata riunione con tutte le strutture ricettive del nostro territorio ricettive, turistiche e commerciali e c'è stata una partecipazione veramente sentita una partecipazione motivata che ci spinge sempre di più a fare meglio e andare nella direzione giusta abbiamo dati ufficiali dicevo oggi Castellabate nel giro di ben 30 giorni si attesta intorno al 78% di raccolta differenziata che è un risultato eccezionale avevo detto anche andando oltre le previsioni oltre le aspettative anche del personale della Sarim dei vertici della Sarim mi ero spinto ad arrivare fino all'80% ebbene nel giro di un mese siamo circa al 78% di raccolta differenziata che è un risultato veramente ambizioso un risultato veramente che vede coinvolti tutte le persone tutti gli utenti dai più piccoli ai più grandi sono andato nelle scuole con la partecipazione di Capitano Eco per coinvolgere anche i piccoli perché poi sono i cittadini del domani coloro che devono trasferire le notizie ai genitori trasferire le notizie al resto della famiglia e c'è stata una partecipazione sto trovando entusiasmo anche dal punto di vista delle scuole quindi gli insegnanti i collaboratori scolastici chiamano si documentano proprio per fare meglio soprattutto all'interno delle scuole dicevo non è solamente l'organizzazione o lo stravolgimento semplice del calendario noi qui stiamo parlando stamattina di una vera e propria rivoluzione ambientale stiamo provvedendo siamo un comune di 36, chilometri quadrati circa siamo l'unico comune lo posso dire con orgoglio ad aver installato nel territorio del comune di Castellabate ben 5 casette dell'acqua due sono di recente installazione nella frazione di Ogliastro nella frazione di Zona Lago tre già le avevamo su Santa Maria su Castellabate e su San Marco e andiamo anche nella direzione di abolire definitivamente l'uso della plastica stamattina stiamo distribuendo in sinergia con il Parco Nazionale del Cilento e con la CONSAC le borracce di alluminio nelle scuole per sensibilizzare il mondo della scuola il mondo dei bambini per evitare e andare incontro a questo spot che si sta diffondendo a livello diciamo così nazionale che è plastic free e noi stiamo sostituendo alle parole i fatti invitiamo i cittadini ad utilizzare sempre meno questo prodotto inquinante non solo per il mare ma inquinante per tutta la superficie terrestre forniremo anche le utenze i nostri cittadini queste bottiglie in modo tale da facilitare anche il prelievo di acqua potabile presso queste strutture un'altra grande iniziativa è quella delle isole ecologiche piccole isole nelle scuole ecco ci spieghi nel dettaglio questa assoluta novità certo con l'avvio di questa nuova campagna di sensibilizzazione informativa abbiamo deciso di installare presso i cortili delle scuole in modo da rendere accessibile a tutti i cittadini ma anche per sensibilizzare il mondo della scuola i cittadini del domani come amo definire i bambini a questo uso corretto e al rispetto verso il territorio verso il proprio ambiente e quindi installeremo presso tutti i cortili delle scuole in maniera video sorvegliata quindi rispetto preciso di queste regole che cosa sono queste mini isole ecologiche installeremo presso appunto i cortili delle scuole da rendere accessibile a tutti dei contenitori di quelle sostanze di quei rifiuti molto inquinanti tipo ad esempio le pile o l'olio esausto oggi buttare l'olio esausto all'interno di una fogna può causare l'intasamento di tubi può causare appunto problemi enormi a quelle che è il sistema depurativo del comune di Castellabate quindi installeremo non solo il contenitore per le oli esausti il contenitore per le pile metteremo anche altre tipologie di contenitori ad esempio quello per la raccolta degli indumenti esausti in modo tale da facilitare anche lo smaltimento da parte dei cittadini di Castellabate che non devono recarsi necessariamente presso il centro di raccolta che ricordo centro di raccolta che è aperto tutti i giorni abbiamo preteso che il centro di raccolta fosse aperto tutti i giorni garantendo un orario dalle 8 a mezzogiorno e mezza e nel giorni di martedì e giovedì anche negli orari pomeridiani quindi dalle 15 alle 18 proprio per favorire un utilizzo corretto del centro di raccolta e quindi spingendo il cittadino ad una sensibilizzazione e del rispetto enorme verso il territorio in cui vive Assessore sempre nel contesto della valorizzazione dell'ambiente riparte dopo lo stop dello scorso anno operazione spiagge pulite ce ne vuole parlare? Certo noi nel settore ambientale stiamo facendo passi da gigante ma questo lo dico con orgoglio perché non solo è un settore che io seguo da tantissimo tempo ma vedo i risultati che di giorno in giorno ripagano gli sforzi perché per un amministratore che fa queste cose con passione senza nessun interesse è sicuramente soddisfazione enorme vedere ogni giorno raccogliere questi risultati e certo come ben dicevi ripartiamo con operazione spiagge pulite dopo una breve interruzione di qualche anno quest'anno il sabato che precede domenica delle palme partiremo con operazione spiagge pulite proprio per sensibilizzare i nostri concittadini ma soprattutto coloro che affollano le nostre coste già da queste settimane è una cura spasmodica del territorio delle spiagge del mare delle strade una pulizia del mare siamo un territorio che cura in maniera minuziosa tutti gli spazi verdi oggi Castellabate non ha un angolo del territorio che non è curato alla perfezione dal punto di vista ambientale dal punto di vista turistico in ogni angolo del nostro territorio sventolano con orgoglio le bandiere blu e la bandiera le cinque vele di lega ambiente che sono il simbolo per eccellenza per antonomasia della cura spasmodica del territorio e quindi con orgoglio invito i cittadini a custodire sempre di più e sempre meglio il territorio in cui vivono in cui sono nati voglio fare mie le parole del grande poeta greco Orazio che dice è nemico di sé dell'uomo e di Dio chi non ama e pregia il suo natio ecco invito ogni cittadino a fare proprio queste che sono queste parole a farle a custodirle bene e serbarle nel proprio animo nel proprio cuore proprio per dare la possibilità alle future generazioni di vivere sempre meglio in questo territorio che è veramente un angolo di paradiso naturalmente assessore per terminare questo buon lavoro è il frutto di una sinergia tra SARIM il RUP e l'amministrazione di Castellabate certo non è sicuramente merito dell'assessore l'assessore l'assessorato all'ambiente ci mette passione ci mette impegno ci mette entusiasmo nel portare avanti questi progetti ma è codiuvato da una squadra ben strutturata abbiamo un'azienda che sta rispondendo alla grande a quelli che sono che è l'azienda SARIM a cui va il mio ringraziamento particolare che sta rispondendo alla grande a tutte le nostre richieste a tutte le nostre aspettative ma così come voglio ringraziare il sindaco voglio ringraziare il RUP che si sta spendendo in maniera veramente eccezionale per la realizzazione di questi grandi e ambiziosi traguardi e tutta la squadra che collabora con me con l'assessorato all'ambiente per la realizzazione di questo ambizioso progetto sindaco complimenti 80% di raccolta differenziata dopo un mese è già un grande risultato per Castellabate grazie i complimenti non vanno al sindaco in verità vanno ai cittadini vanno agli operatori che hanno ricepito e hanno capito subito lo sforzo che noi stiamo mettendo in campo per portare appunto per raggiungere per centrare questo obiettivo per la sfida che noi abbiamo lanciato abbiamo fatto una serie di incontri con il territorio con le utenze con le utenze domestiche incontrando un po' i cittadini in tutte le frazioni abbiamo fatto incontri anche per le utenze non domestiche e quindi devo dire che il risultato ci incoraggia incoraggiante ci fa andare ci fa andare bene ci dà la spinta per fare ancora meglio chiaramente il lavoro non si esaurisce qui siamo solo all'inizio stiamo facendo tante attività stiamo mettendo in campo per quanto riguarda tutta la tematica ambientale però quello che noi dobbiamo fare è essere portatori di questo messaggio di questo sistema soprattutto nel nostro territorio che è un paese turistico che vive di turismo dove con l'approssimarsi della bella stagione arriveranno tante persone persone che vivono che hanno deciso di avere casa qui che vengono in vacanza che scelgono il nostro territorio per passare le vacanze o chi arriverà poi occasionalmente nelle strutture ricettive e quindi nel nostro territorio solo a trascorrere qualche giorno quindi dobbiamo essere tutti quanti coinvolti fare da portavoce fare da usare un po' il passaparola abituare la gente comunicare alla gente comunicare ai turisti comunicare a chi verrà questo sistema di raccolta e comunicare l'obiettivo la sfida che noi ci siamo dati per arrivare a raggiungere appunto questi obiettivi altre iniziative faremo per quest'estate sulle spiagge nei centri nelle isole pedonali perché questo tema è importante è un tema che deve accomunare tutti perché tutti quanti insieme riusciamo a raggiungere un risultato riusciremo a raggiungere un risultato importante ancora migliore di quello che abbiamo abbiamo raggiunto in questo primo mese riconosco l'attenzione riconosco la capacità di attaccamento e la capacità di collaborazione e di partecipazione della comunità dei cittadini di Castellabate il risultato è loro il risultato è vostro su questo dobbiamo continuare su questo dobbiamo cercare di migliorare anche perché il nostro lavoro è finalizzato al mantenimento di standard di eccellenza che Castellabate ha raggiunto negli anni i riconoscimenti che noi abbiamo conseguito le bandiere blu i borghi più belli d'Italia le cinque vere di lega ambiente i riconoscimenti che ci vengono da ogni parte d'Italia non possono prescindere da questi risultati e non possono prescindere da queste attestazioni che non sono del sindaco ripeto ma sono dell'intera comunità e ne beneficia la qualità della vita il rispetto dell'ambiente e l'insieme di quello che Castellabate rappresenta e dovrà rappresentare oggi e nel futuro che c'è